Siamo tutti, possiamo andare? Sì. Eccoci, l'incontro di calcio del lunedì del campionato regionale categoria Juniors, Under-19, Scerni Virtus Castelfrentano. Ci troviamo sul comunale di Scerni, erba sintetica, rifatta da due o tre settimane. Ecco l'entrata in campo, il direttore di gara è della sezione aia di basto. Adesso c'è il saluto e la scelta. Ecco l'entrata in campo, la scelta è la scelta. Che vi tocca quella metà a campo? Ho tirato la soterra qua. Ecco il nostro capitano Lucas, la panchina locale. Lele, qua. Sta dentro la busta, non l'avete portato, l'ho detto. Ho detto portate la busta, c'è le casacche. Quelli sta dentro, che si è dentro lo freddo. Chi è che si è dentro lo freddo, è quello? Eh, che te. Non sobbiamo le bozze. Io non sobbiamo chi va, io cazzo. Perché è abbinuato prima. Ormai ero freddo. Ecco c'è il fischio di inizio, proprio adesso, qua da Scerni è iniziato la gara. C'è il fischio di inizio. C'è il fischio di inizio. Grazie a tutti.